Abruzzo, regione pilota in materia di dipendenze patologiche, ovvero quei comportamenti che da semplice abitudine diventano bisogno compulsivo del piacere attraverso mezzi, sostanze e comportamenti che sfociano appunto nella condizione patologica. Lo ha ricordato il presidente della regione Marco Marsilio nel presentare la prima giornata regionale dedicata al tema delle dipendenze in programma domani al Teatro Comunale di Atri. Siamo la prima e l'unica regione ad oggi ad aver fatto una legge regionale quadro per il contrasto alle dipendenze patologiche, la prima ad aver istituito un osservatorio che mette insieme diverse realtà, avete sentito oggi la soddisfazione, i ringraziamenti e i complimenti del CONI, dell'ufficio scolastico regionale, delle questure che insieme alle ASL e ai servizi e al mondo del volontariato dentro l'osservatorio si confrontano e si mettono insieme le esperienze sotto diversi punti di vista. Un'esperienza importante, un'esperienza pilota e domani sarà la prima volta, la prima regione in Italia che istituisce una giornata ricorrente annuale di contrasto alle dipendenze, una giornata regionale in cui cercheremo di fare sensibilizzazione. Io spero che questo possa aiutare l'Abruzzo, affronteggiare i cittadini abruzzesi, affronteggiare un fenomeno che nella nostra regione ha colpito pesantemente, abbiamo dati molto preoccupanti e soprattutto nelle aree colpite dal cratere sismico, dal sisma, il ricorso insomma al gioco d'azzardo e alle dipendenze patologiche ovviamente è stato favorito da condizioni anche psicologiche e sociali più difficili e quindi spesso la reazione alle difficoltà diventa rifugiarsi dentro paradisi artificiali o cercare la fortuna in maniera compulsiva attraverso il gioco d'azzardo quindi per questa ragione abbiamo voluto concentrare le nostre attenzioni su questo fenomeno. All'incontro presenti i questori di Chieti, Pescara e L'Aquila e il vice questore di Teramo, il presidente regionale del CONI e Giuliano Bocchia, dirigente tecnico presso l'ufficio scolastico regionale che ha sottolineato le iniziative e il coinvolgimento degli studenti in tutte le province. Il direttore generale dell'ufficio, il dottor Massimiliano Mannardocci ha incontrato tutti i presidi raccomandando questa iniziativa e pensiamo che siano più di 4.000 gli alunni che saranno coinvolti. Le iniziative sono di tutti i tipi ovviamente adatte all'età e alla programmazione, sono scuole che resteranno senza cellulare, scuole che fanno diretta radio, scuola in cui andrà la pulizia postale, lo psicologo scolastico, ogni scuola troverà il modo per affrontare questo che è un problema che noi sentiamo particolarmente. I dati sulla diffusione in Abruzzo delle varie dipendenze da sostanze di natura comportamentare, alimentare e tecnologiche verranno resi noti domani. Sentiamo la dottoressa Michela Moscone, direttore del Servizio per le Dipendenze Patologiche della ASL di Teramo, capofila dell'iniziativa. Partiamo dalla definizione, cos'è una dipendenza patologica? La dipendenza patologica è fondamentalmente un'alterazione del comportamento che da una comune abitudine diventa invece la ricerca esagerata, esasperata del piacere attraverso l'uso di sostanze o dei comportamenti. Quindi la dipendenza può essere sia psichica che fisica? Certo, c'è una parte legata alla parte fisica e una parte legata alla psiche che è la cosa più complessa perché per quanto riguarda la dipendenza fisica noi possiamo agire anche con dei farmaci, quindi da un punto di vista farmacologico, ma andiamo soltanto a tamponare. Il lavoro più grande si fa da un punto di vista psicologico perché c'è una rimodulazione, cioè dobbiamo andare a lavorare su quello che è il reward center, cioè il centro del piacere, quindi è un lavoro più ampio che non si riduce all'erogazione di una terapia farmacologica, assolutamente. È un lavoro fatto in equip, infatti i nostri servizi sono costituiti da equip multidisciplinari, costituiti da medici, infermieri, educatori, sociologi, assistenti sociali che insieme collaborano per prendere in carico l'utenza, questo per quanto riguarda la terapia e quindi i percorsi diagnostico-terapeutici individualizzati. Ma questa equip non fa solo questo perché interloquisce con altre istituzioni, pensiamo ad esempio alla questura, ai tribunali, alle scuole, quindi è a tutto tondo il nostro impegno nella lotta contro le dipendenze, quindi i disturbi da uso di sostanze o le dipendenze comportamentali, non si riduce alla mera erogazione, come nell'immaginario collettivo, del farmaco. Quindi questo credo che sia un punto. Va chiarito, perfetto. Abbiamo detto prevenzione, rispetto ai vostri dati, a quello che avete osservato negli ultimi anni, come è cambiato, se è cambiato, è peggiorato la dipendenza soprattutto tra i più giovani? Allora diciamo che innanzitutto un aspetto interessante è che quest'anno per la prima volta il Ministero ha introdotto come area quella delle dipendenze, parlando di prevenzione. Prima c'erano dei progetti trasversali, quindi non rientravamo nei programmi di prevenzione ministeriali. Quest'anno c'è stato un lavoro veramente certosino e complesso che ha visto collaborare insieme, appunto in sinergia, come sarà il convegno di domani, la Regione, i quattro servizi per le dipendenze delle ASL e i diversi responsabili degli altri servizi di prevenzione e delle altre aree di prevenzione, quindi in un lavoro multidisciplinare e intersettoriale. Questo perché? Perché chiaramente anche purtroppo in seguito alla pandemia noi abbiamo avuto un aumento dei casi legati sia al disturbo di uso da sostanze che ahimè dei comportamenti patologici, quindi di dipendenza. Si è abbassata ulteriormente l'età purtroppo del primo uso, quindi il nostro impegno sarà per i prossimi anni sia nelle scuole e sia all'interno delle aziende. Quindi cerchiamo di lavorare sul territorio perché noi non siamo ambulatori ma siamo servizi territoriali e cercheremo quindi di diffondere la cultura soprattutto del benessere nel nostro territorio. Un'ultima cosa dottoressa, possiamo dire che in generale la dipendenza coinvolge un po' tutti noi perché è una cosa che ci fa stare bene, ci rende la vita più tranquilla? Allora lei ha accolto un aspetto che è quello di un equilibrio precario tra dipendenza e indipendenza perché noi fondamentalmente nasciamo dipendenti e allora se verrà domani al convegno vedrà come ho modificato il titolo del nostro convegno. Come? Questo lo scoprirà domani. Sarà una sorpresa? Una sorpresa. Grazie.